Gli audio racconti, serie gialli e thriller d'America, il problema della cella numero 13 di Jacques Futrell, letto da Adami. Praticamente tutte le lettere dell'alfabeto, rimaste libere dopo il battesimo di Augustus, S, F, X, Van Dusen, erano state acquistate dallo stesso gentiluomo nel corso di una brillante carriera scientifica, ed essendo state ottenute onorevolmente, erano andate ad aggiungersi al suo nome. Questo, dunque, con tutto quello che gli apparteneva, formava una struttura imponente e meravigliosa. Van Dusen era PHD, LLD, FRS, MD e MDS, vale a dire dottore in filosofia, dottore in legge, membro della Royal Society, dottore in medicina e persino dottore in odontoiatria. Era anche una quantità di altre cose, nemmeno lui era in grado di ricordarle tutte, ottenute attraverso il riconoscimento delle sue capacità da parte di università e di istituzioni scientifiche straniere. Il suo aspetto non era meno sorprendente dell'interminabile elenco dei suoi titoli. Era esile, aveva spalle sottili e ricurve, tipiche dello studioso, e sul volto rasato si notava il pallore caratteristico di chi svolge una vita sedentaria in ambienti chiusi. I suoi occhi, perennemente accigliati, avevano un leggero strabismo, lo strabismo della persona che studia cose molto piccole, e quando si riuscivano ad intravedere, attraverso le lenti molto spesse degli occhiali, sembravano due minuscole fessure di un colore azzurro acquoso. Ma quello che si trovava sopra gli occhi era la sua caratteristica più impressionante. La fronte, infatti, era alta, ampia, di dimensioni quasi anormali, ed era incoronata da una folta chioma gialla e cespugliosa. Tutto ciò contribuiva a conferirgli una personalità molto particolare, quasi grottesca. Il professor Van Dusen era di lontana origine tedesca. Per generazioni i suoi antenati si erano distinti nelle scienze, e lui ne era il naturale risultato, un genio. In primo luogo. Ma soprattutto era un logico. Almeno 35 anni del mezzo secolo circa della sua esistenza, erano stati dedicati unicamente a provare che due e due fanno sempre quattro, fatti salvi certi casi particolari, quando fanno tre o cinque, a seconda delle circostanze. In linea di massima partiva dall'affermazione generale secondo la quale tutte le cose che hanno un inizio devono andare da qualche parte, ed era perfettamente in grado di applicare la potenza mentale dei suoi antenati a qualunque problema gli venisse sottoposto. Per inciso, si può anche rimarcare che il professor Van Dusen portava cappelli della misura numero 8. Il mondo in generale conosceva vagamente il professor Van Dusen come la macchina pensante. Era stato un giornale a coniare questo soprannome, in seguito alla strabiliante prova che il professore aveva dato di sé nel corso di un torneo di scacchi. In quell'occasione, infatti, aveva dimostrato che, grazie alla forza della logica, una persona totalmente digiuna di quel gioco era in grado di sconfiggere un campione che aveva dedicato tutta la sua vita a studiarlo. La macchina pensante Forse quella era la definizione che lo descriveva meglio, molto più delle sue tante iniziali, poiché lui soleva passare settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, nella solitudine del suo piccolo laboratorio, da dove poi se ne usciva con ragionamenti e riflessioni tali da sballordire le associazioni scientifiche e creare scalpore nel mondo intero. Solo occasionalmente la macchina pensante riceveva visite e si trattava di solito di importanti studiosi che si recavano da lui per discutere qualche problema particolare e forse per convincere se stessi. Due di questi, il dottor Charles Ransson e Alfred Fielding, si erano fatti vivi una sera per discutere una loro teoria che ai nostri fini non ha alcuna importanza. «Una cosa del genere è impossibile», dichiarò enfaticamente il dottor Ransson nel corso della conversazione. «Nulla è impossibile», affermò a sua volta e con altrettanta enfasi la macchina pensante. parlava sempre con una certa petulanza. «La mente è la signora di tutte le cose. Quando la scienza riconoscerà in pieno questo fatto, si sarà compiuto un grande passo avanti». «E che mi dice delle macchine volanti?» domandò il dottor Ransson. «Non sono affatto impossibili», affermò la macchina pensante. «Prima o poi saranno inventate. Lo potrei fare io stesso, ma sono troppo occupato». Il dottor Ransson rise con aria condiscendente. «L'ho già sentita dire cose del genere, ma tutto questo non significa nulla», replicò. «La mente può dominare la materia, ma non ha ancora trovato il modo per metterlo in pratica. Ci sono cose che non possono essere pensate in modo diverso da quello in cui esistono, o meglio che non si piegherebbero ad alcuna azione dettata dal solo pensiero». «E che cosa, per esempio?» chiese la macchina pensante. Il dottor Ransson rimase sovra pensiero per qualche istante, mentre aspirava a una lunga boccata di fumo. «Diciamo, ad esempio, le mura di una prigione. Nessun uomo può uscire col pensiero fuori da una cella. Se fosse così, non ci sarebbero più prigioni. Ma un uomo può concentrare il proprio cervello e la propria ingegnosità in modo da uscire dalla cella, il che è la stessa cosa». Il dottor Ransson manifestò un certo divertimento. «Facciamo un'ipotesi», disse dopo qualche istante. «Prendiamo una di quelle celle dove sono rinchiusi i condannati a morte. Uomini così disperati e terrorizzati che approfitterebbero di ogni possibilità pur di evadere. Supponiamo che lei fosse chiuso in una di queste celle. Riuscirebbe a scappare?» «Senza alcun dubbio». «Naturalmente», intervenne il signor Fielding che non aveva ancora preso parte alla conversazione. «Potrebbe buttare giù i muri della cella con un esplosivo, ma dall'interno un prigioniero non potrebbe avere con sé dell'esplosivo». «Non ci sarebbe niente del genere», replicò la macchina pensante. «Voi potreste trattarmi esattamente come trattereste un condannato a morte e io uscirei ugualmente dalla cella». «Impossibile!» «A meno che non fosse entrato con gli attrezzi necessari per evadere», obiettò il dottor Hanson. Il professor Van Dusen era visibilmente irritato e un lampo balenò nei suoi occhi azzurri. «Chiudetemi in una cella qualsiasi di una qualsiasi prigione, in qualunque momento voi vogliate, e lasciandomi addosso solo quello che è indispensabile. E io, nell'arco di una settimana, evaderò», affermò bruscamente la macchina pensante. Il dottor Hanson si accomodò meglio sulla poltrona, interessato. Fielding accese un altro sigaro. «Vuole dire che potrebbe uscire con la forza del pensiero?» domandò il dottor Hanson. «Uscirei», fu la risposta. «Sta parlando seriamente?» «Certo che parlo seriamente!» Ranson e Fielding rimasero pensierosi in silenzio per un bel po'. «Sarebbe disposto a provarci?» chiese infine Fielding. «Certamente», rispose il professor Van Dusen, e si poteva notare ora una traccia di ironia nella sua voce. «Ho fatto sciocchezze più grosse di questa per convincere altre persone di verità meno importanti». Il tono era offensivo e da entrambe le parti si avvertiva, in maniera inequivocabile, un sottofondo di collera. Era assurdo, ovviamente, ma il professor Van Dusen ripeté di essere prontissimo a compiere l'evasione, e la sfida venne decisa. «Cominciamo subito», propose il dottor Ranson. «Preferirei domani», replicò la macchina pensante, dato che... «No, subito», intervenne Fielding deciso. «Lei viene arrestato, in senso figurato, si intende, e senza alcun preavviso chiuso in una cella dalla quale non avrà la possibilità di comunicare con amici, e lasciato là, sorvegliato con la stessa cura e con la stessa attenzione, riservate ad un uomo condannato a morte. Vi va?» «Molto bene. Facciamolo subito, allora», disse la macchina pensante, e si alzò. «Diciamo la cella dei condannati a morte della prigione di Kinshom?» «D'accordo. Vada per la cella dei condannati a morte della prigione di Kinshom. che cosa indosserà?» «Il meno possibile. Scarpe, calze, calzoni ed una camicia». «Va da sé che accetterà di essere perquisito». «Sarò trattato esattamente come vengono trattati tutti i carcerati», confermò la macchina pensante. «Niente di più e niente di meno». C'erano alcune questioni preliminari che dovevano essere sistemate per ottenere il permesso per l'esperimento, ma tutte e tre erano persone di una certa influenza e ogni cosa fu risolta telefonicamente, anche se i membri della commissione di controllo della prigione, nonostante fosse stato spiegato loro che si trattava di un esperimento puramente scientifico, rimasero piuttosto sconcertati. Il professor Van Dusen sarebbe stato di gran lunga il prigioniero più illustre che il carcere di Kinshom avesse mai ospitato. Quando la macchina pensante ebbe indossato gli abiti che dovevano servirgli durante la sua prigionia, chiamò la vecchia signora che gli faceva nello stesso tempo da governante cuoca e cameriera. Marta le disse Adesso sono le 9 e 27 Io esco Esattamente tra una settimana alle 9 e mezza questi signori e probabilmente uno o due altri ce n'eranno qui con me. Si ricordi che al dottor Ransom piacciono in modo particolare i carciofi. I tre uomini furono condotti alla prigione di Kinshom dove il direttore preavvisato telefonicamente della cosa li stava aspettando. In realtà sapeva soltanto che l'insigne professor Van Dusen sarebbe stato uno dei suoi carcerati per una settimana sempre che fosse riuscito a trattenerlo per tutto quel tempo che il professore non aveva commesso alcun crimine ma doveva essere trattenuto ugualmente come tutti gli altri prigionieri. Perquisitelo ordinò il dottor Ransom. Il professore venne perquisito. Non gli fu trovato addosso o nulla. Le tasche dei calzoni erano vuote. La camicia bianca con il davanti inamidato non aveva tasche. Le calze e le scarpe gli furono tolte esaminate e poi riconsegnate. Mentre osservava tutti questi preliminari e notava la compassionevole infantile debolezza fisica di Van Dusen il volto pallido le mani bianche e sottili il dottor Ransom quasi si pentì di aver avuto parte in quella faccenda. È proprio sicuro di volerlo fare professore chiese. Si convincerebbe lo stesso se non lo facessi? Domandò di ritorno la macchina pensante. No. Bene allora lo farò. Il moto di simpatia che il dottor Ransom aveva provato venne rapidamente cancellato dal tono della risposta. Lo punse sul vivo e decise allora di assistere all'esperimento fino alla fine. Sarebbe stata una salutare lezione per un così orgoglioso egocentrico. Potrà comunicare con qualcuno fuori di qui? Si sincerò. Assolutamente no rispose il direttore. non gli sarà nemmeno consentito a scrivere. E le guardie? Potrebbero far arrivare un suo messaggio a qualcuno all'esterno? Nemmeno una parola né direttamente né indirettamente può starne certo. Mi riferiranno tutto ciò che lui dirà e mi consegneranno qualunque cosa dovesse dar loro. Mi sembra più che soddisfacente commentò il signor Fielding che era decisamente interessato all'esperimento. Naturalmente nel caso in cui il professore fallisse precisò il dottor Ranson e chiedesse di essere liberato è inteso che lo lascereste andare. Oh certo confermò il direttore. Van Dusen era rimasto ad ascoltare in silenzio. Parlò solo alla fine. Avrei tre piccole richieste da avanzare disse potrete acconsentirle o meno come preferite. Niente favori speciali adesso però l'uomo Niffielding. Non li sto chiedendo fu la risposta risentita. Vorrei solo avere della polvere dentifricia compratela voi stessi per accertarvi che sia solo quella e inoltre vorrei avere un biglietto da cinque dollari e due biglietti da dieci dollari il dottor Hanson Fielding e il direttore si scambiarono degli sguardi sbalorditi. Non era tanto la richiesta della polvere dentifricia a sorprenderli quanto quella del denaro. C'è qualcuno tra le persone con le quali il nostro amico verrà in contatto che potrebbe lasciarsi corrompere da venticinque dollari? Se per questo nemmeno da venticinque mila fu la risposta del direttore. Bene allora dategli pure tutto mi sembra che si tratti di cose abbastanza innocue. E la terza richiesta qual è? domandò il dottor Hanson. Vorrei che le mie scarpe venissero lucidate. Ancora una volta i tre si scambiarono occhiate meravigliate. Quest'ultimo desiderio era il massimo della stravaganza ma tutti la consentirono. una volta che le richieste di Van Dusen furono esaudite il professore fu accompagnato nella cella dalla quale si era impegnato a fuggire. Ecco questa è la cella numero tredici spiegò il direttore fermandosi davanti alla terza porta di un corridoio dalle pareti di acciaio. Qui è dove teniamo i condannati a morte. nessuno può uscire senza il mio permesso e nessuno può comunicare con l'esterno. Su questo punto sarei pronto a giocare la mia reputazione. Ci sono solo tre porte tra qui e il mio ufficio e sono perfettamente in grado di avvertire qualsiasi rumore insolito. Vi va bene questa cella signori? chiese la macchina pensante. Nella sua voce c'era un'evidente ironia. perfettamente fu la risposta. La pesante porta di acciaio a sbarre venne aperta. Si udì un gran correre e frusciare qua e là di zampette e la macchina pensante fece il suo ingresso nella tetracella. Poi la porta venne chiusa dietro di lui a doppia mandata dal direttore. Che cos'è quel rumore? domandò il dottor Renson attraverso le sbarre. Topi topi a dozzine rispose Van Dusen scandendo bene le parole. I tre uomini gli avevano già augurato la buonanotte e si erano girati per andarsene quando la macchina pensante li chiamò. Mi può dire l'ora esatta direttore? Le undici e diciassette grazie sarò nuovamente con voi signori fra una settimana a partire da oggi nell'ufficio del direttore alle otto e mezza di sera. E se non ci sarà? Non ci sono se in proposito. la prigione di Kinshaw era una grande costruzione di granito quattro piani in tutto che sorgeva al centro di un vasto spiazzo aperto. Era circondata da un massiccio muro alto quasi cinque metri e mezzo perfettamente levigato sia all'interno sia all'esterno in modo da non offrire alcun appiglio a chi avesse cercato di arrampicarvisi neppure se costui fosse stato un esperto scalatore. In cima al muro come ulteriore precauzione c'era una cancellata formata da spunzoni d'acciaio alti un metro e mezzo e particolarmente accuminati. Muro e cancellata formavano di fatto una separazione assoluta fra prigionia e libertà perché ammettendo anche che un detenuto fosse riuscito ad evadere dalla sua cella non sarebbe mai stato in grado di superare il muro. Il cortile che correva tutto intorno all'edificio e che lo separava dal muro era largo circa otto metri e serviva da passeggiata quotidiana per quei detenuti ai quali era concesso il privilegio di una occasionale semilibertà ma questo non accadeva per chi si trovava nella cella numero 13. Ad ogni ora del giorno nel cortile stazionavano delle guardie armate e quattro di loro erano destinate a controllare uno ciascuna i quattro lati dell'edificio. Di notte il cortile era illuminato quasi quanto il giorno. Su ognuno dei quattro lati a un'altezza superiore a quella del muro della prigione si trovava una grande lampada ad arco che consentiva alle guardie una visione molto chiara e completa. Le luci inoltre illuminavano perfettamente la parte superiore del muro comprese le punte d'acciaio. I fili elettrici che portavano la corrente alle lampade correvano su isolanti lungo le pareti della prigione e dall'ultimo piano raggiungevano i pali delle lampade stesse. Tutto questo vide e valutò la macchina pensante che poteva guardare fuori dalla finestrella della sua cella sbarrata da fitte inferiate solo stando in piedi sul letto. Era la mattina successiva la sua incarcerazione e dal debole rombo di un motoscafo lontano e dal volo alto nel cielo di un uccello acquatico si rese conto che il fiume scorreva da qualche parte al di là del muro. Dalla stessa direzione arrivavano grida di ragazzi che giocavano e di quando in quando il rumore secco di una palla abbattuta da una mazza. Capì allora che tra il fiume e il muro di cinta c'era uno spazio aperto un campo da gioco probabilmente. La prigione di Kinshaw era considerata come assolutamente sicura nessuno ne era mai avaso la macchina pensante in piedi sul letto vedendo quel poco che poteva vedere riuscì facilmente a comprenderne la ragione. I muri della cella anche se a suo giudizio erano stati costruiti vent'anni prima erano solidissimi e le inferiate della finestra erano di ferro nuovo e non portavano la più piccola traccia di ruggine. La stessa finestrella anche priva di sbarre sarebbe stata una via d'uscita assai difficile in quanto era di dimensioni molto piccole. Eppure vedendo tutte queste cose il professor Van Dusen non si perse d'animo. Strizzando gli occhi c'era una luce solare molto brillante in quel momento si mise ad osservare pensieroso la grande lampada ad arco e seguì con lo sguardo il tracciato del filo che arrivava fino alla prigione vera e propria. Quel filo ragionò doveva scendere lungo quel lato dell'edificio non troppo distante dalla sua cella era questo un particolare che valeva la pena di tenere presente. La cella numero 13 si trovava allo stesso piano degli uffici del carcere e quindi non al seminterrato né al piano terra. C'erano solo quattro gradini da salire per accedere agli uffici perciò il livello del piano doveva essere ad un metro un metro e venti al massimo sopra quello del suolo. Il professore sua finestra ma soltanto la parte un po' più in là quella che si trovava verso il muro di cinta. Sarebbe stato un salto molto facile dalla sua finestra. Molto bene pensò. Poi la macchina pensante si mise a ricostruire mentalmente l'itinerario che aveva percorso dall'ingresso del carcere alla cella. Innanzitutto c'era il posto di guardia all'esterno che si trovava incorporato nel muro di cinta. Qui c'erano due spesse porte di sbarre d'acciaio davanti alle quali un uomo era stabilmente di guardia. Faceva entrare la gente con un gran rumore di chiavi e di catenacci e la lasciava uscire solo quando ne aveva ricevuto l'ordine. L'ufficio del direttore si trovava nell'edificio della prigione e per poterlo raggiungere dal cortile bisognava superare una porta di acciaio pieno munita di uno spioncino. Poi per arrivare dall'edificio fino alla cella numero 13 dove lui si trovava in quel momento bisognava oltrepassare una pesante porta di legno e due porte di acciaio che sbarravano il corridoio e poi c'era sempre da fare i conti con la porta duplice mandata della sua cella c'erano dunque come ricapitolò mentalmente van duzen in tutto sette porte da superare per passare dalla cella numero 13 al mondo esterno e tornare così ad essere un uomo libero ma andava pure tenuto in conto il fatto che solo di rado venivano a disturbarlo un secondino compariva la mattina alle sei con la modesta prima colazione che il carcere e ancora alle sei di sera alle nove infine c'era l'ispezione e questo era tutto il sistema carcerario è organizzato in maniera davvero ammirabile questo fu il tributo mentale offerto dalla macchina pensante quando sarò fuori di qui bisognerà che lo studi un poco più a fondo non avevo idea che nelle prigioni ci fosse una simile cura nella cella non c'era nulla assolutamente nulla all'infuori del letto di ferro così solidamente messo insieme che nessun uomo sarebbe riuscito a farlo a pezzi salvo che con un martello e una lima e lui non aveva né l'uno né l'altra non c'era nemmeno una sedia né un tavolino né un pezzetto di latta e nemmeno del vasellame di terracotta niente di niente il secondino si fermava a guardarlo mentre mangiava poi una volta finito si portava via il cucchiaio di legno e la scodella ad uno ad uno questi particolari entrarono nel cervello della macchina pensante quando ebbe considerato anche l'ultima possibilità cominciò ad esaminare minuziosamente la cella ne studiò il soffitto le pareti le pietre con cui queste erano costruite il cemento che le teneva insieme batte con gran cura il pavimento qua e là ma il cemento era assolutamente solido terminato l'esame si mise a sedere sul bordo del letto di ferro e si immersi in una lunga meditazione perché il professore augustus s f x van dusen detto la macchina pensante ne aveva di cose su cui riflettere fu disturbato da un topo che gli corse tra i piedi e poi spaventato dalla propria udacia si rifugiò in un angolo buio della cella guardando attentamente nell'angolo dove il topo si era infilato dopo un po' van dusen riuscì a distinguere tanti puntini luminosi che lo fissavano ne contò sei paia era probabile che ce ne fossero altri ma non riusciva a vedere molto bene sempre seduto sul letto la macchina pensante notò per la prima volta la base della porta della sua cella tra la barra d'acciaio e il pavimento c'era uno spazio di 5 centimetri circa tenendo gli occhi sempre fissi sulla fessura si diresse di scatto verso l'angolo dove aveva visto i puntini lucenti si udirono fruscì di zampette e squittì di paura di roditori in fuga poi il silenzio nessuno dei topi era fuggito dalla fessura sotto la porta eppure nella cella non ce n'era rimasto nemmeno uno di conseguenza doveva esserci per quanto piccola fosse un'altra via d'uscita da quel posto la macchina pensante si mise carponi e iniziò a cercare esplorando l'oscurità con le sue dita lunghe e sottili alla fine la sua minuscola apertura all'altezza del pavimento era un foro perfettamente tondo poco più grosso di un dollaro d'argento da lì se ne erano andati i topi infilò le dita nell'apertura il più in fondo possibile sembrava si trattasse di un tubo di scarico non più in uso era asciutto e pieno di polvere come si fu accertato di questo tornò a sedersi sul bordo del letto per un'ora quindi fece un'altra ispezione dei dintorni attraverso la finestrella della cella una delle guardie all'esterno si trovava proprio di fronte alla cella numero 13 accanto al muro di cinta e il caso volle che stesse guardando proprio quella finestrella quando vi apparve la testa della macchina pensante ma lo scienziato non lo notò venne mezzogiorno e il secondino comparve con il modestissimo pranzo del carcere a casa sua van duzen mangiava solo perché nutrirsi gli serviva per vivere e quindi accettò quello che gli veniva offerto senza alcun commento ogni tanto rivolse qualche parola al secondino che fuori dalla cella lo sorvegliava attraverso le sbarre avete fatto qualche miglioria al carcere in questi ultimi anni chiese niente di particolare quattro anni fa è stato costruito il nuovo muro di cinta e nessun lavoro all'interno dell'edificio vero e proprio hanno pitturato le intelaiature esterne di legno e credo che sette anni fa abbiano impiantato un nuovo sistema di tubazioni ah fece il prigioniero quanto dista il fiume da qui un centinaio di metri i ragazzi hanno un campo di baseball tra il muro e il fiume la macchina pensante non aveva altre domande da fare per il momento ma quando la guardia fu sul punto di andarsene gli chiese se poteva portargli dell'acqua ho sempre molta sete qui spiegò potrebbe lasciarmi un po' di acqua in una scodella lo chiederò al direttore rispose l'altro e si allontanò mezz'ora dopo ricomparve con dell'acqua in una scodella di terracotta il direttore dice che può tenere la scodella ma dovrà mostrarmela ogni volta che glielo chiederò e se la rompe non gliene potrò dare un'altra grazie non la romperò il secondino se ne andò a sbrigare i suoi doveri per una frazione di secondo van dusen parve sul punto di rivolgergli una domanda ma poi non ne fece nulla due ore dopo la stessa guardia passando davanti alla porta della cella numero 13 udì un rumore proveniente dall'interno e si fermò la macchina pensante era a terra carponi sul pavimento in un angolo della cella dal quale giungevano squittidi i topi spaventati il secondino lo guardò con curiosità ah ti ho preso sentì esclamare il prigioniero preso cosa gli domandò brusco uno di questi topi rispose l'altro lo vede e fra le lunghe dita dello scienziato il secondino vide un piccolo topo grigio che si dibatteva il prigioniero lo portò alla luce e lo esaminò da vicino è un topo d'acqua notò non è niente di meglio da fare che dare la caccia ai topi è una vergogna che ce ne siano qua dentro rispose irritato lo porti via ce ne sono dozzine da dove è venuto il secondino afferrò il rueditore che si divincolava e strideva e lo scaraventò sul pavimento il topo squittì una sola volta poi rimase immobile rigido più tardi lo stesso secondino riferì l'incidente al direttore che sorrise quel medesimo pomeriggio il guardiano armato che si trovava di servizio sul lato del carcere dove si affacciava la cella numero 13 alzò di nuovo lo sguardo verso la finestra e notò che il prigioniero stava guardando fuori scorse una mano sporgere dalle sbarre poi qualcosa di bianco cadere al suolo proprio sotto la finestrella della cella era un piccolo rotolo di cotone evidentemente una striscia strappata da una camicia e piegata insieme a questa c'era una banconota da 5 dollari la guardia guardò di nuovo verso la finestra ma il volto era scomparso con un sorriso malizioso portò la striscia ed il biglietto da 5 dollari nell'ufficio del direttore là insieme decifrarono quello che c'era scritto in qualche modo sulla stoffa con uno strano inchiostro che qua e là si spandeva sulla parte esterna si leggevano le seguenti parole chi lo trova è pregato di consegnarlo al dottor Charles Ranson ah esclamò il direttore lasciandosi andare ad una risatina il piano di fuga numero 1 è andato male poi quasi ci avesse ripensato aggiunse ma perché ha indirizzato questa roba proprio al dottor Ranson e dove si è procurato la penna e l'inchiostro per scrivere aggiunse la guardia i due si guardarono in silenzio apparentemente non c'era spiegazione alcuna al mistero il direttore studiò con attenzione lo scritto poi scosse la testa beh vediamo cosa voleva comunicare al dottor Ranson disse alla fine ancora perplesso e srotolò la striscia di stoffa bene cosa cosa ne pensi domandò stupefatto l'altro prese in mano il pezzo di stoffa e lesse il direttore passò un'ora a domandarsi di che specie di codice si trattasse e mezz'ora fantasticare sul perché il suo prigioniero tentasse di comunicare con il dottor Ranson visto che costui rappresentava il motivo per cui lui si trovava lì dopodiché rivolse i suoi pensieri a come avesse fatto il prigioniero a procurarsi il materiale per scrivere e di che razza di materiale si trattasse nel tentativo di trovare una risposta esaminò di nuovo la striscia era stata strappata da una camicia bianca e aveva gli orli sfilacciati era riuscito dunque a scoprire l'origine della striscia di cotone ma di che cosa si era servito il prigioniero per scrivere era tutta altra faccenda il direttore sapeva che sarebbe stato impossibile per Van Dusen procurarsi una penna o una matita e d'altra parte per scrivere non era stata usata né una penna né una matita che cos'era allora decise di indagare personalmente la macchina pensante era un suo detenuto e lui aveva l'ordine di custodire i suoi prigionieri e se questo detenuto un po' speciale cercava di fuggire inviando messaggi a persone di fuori era suo dovere fermarlo esattamente come avrebbe fatto nei confronti di uno qualsiasi degli altri suoi carcerati raggiunse la cella numero 13 e trovò la macchina pensante Carponi sul pavimento intento al niente affatto allarmante passatempo della caccia ai topi il prigioniero riconobbe il passo del direttore e si voltò di scatto è una vergogna sbottò questi topi ce ne sono una quantità incredibile altri uomini sono riusciti a sopportarli ce la farà anche lei replicò il direttore ecco qua un'altra camicia mi dia quella che ha indosso perché? domandò in fretta vanduse il suo tono non era affatto naturale e i suoi modi tradivano un profondo turbamento lei ha tentato di mettersi in comunicazione con il dottor Renson spiegò l'altro severo ed essendo lei un detenuto è mio dovere porre fine a tutto ciò la macchina pensante rimase in silenzio per qualche secondo e va bene disse infine faccia pure il suo dovere il direttore gli rivolse un ghigno sardonico vanduse si alzò si tolse la camicia bianca e ne indossò un'altra a strisce da recluso il direttore si affrettò a prendere la camicia bianca e appoggiò la striscia di cotone del messaggio cifrato in un punto dove la camicia appariva strappata vanduse lo osservava incuriosito allora il guardiano l'ha portata a lei chiese certo replicò trionfante quello e così finisce il suo primo tentativo di fuga il professore continuava ad osservare il direttore mentre questi dopo un attento esame era riuscito con grande soddisfazione a stabilire che solo un pezzo era stato strappato dalla camicia con che cosa ci ha scritto sopra domandò il direttore ritengo che lo scoprirlo faccia parte del suo dovere replicò irritato la macchina pensante il direttore fu sul punto di rispondergli duramente ma poi si trattenne e cominciò invece a perquisire con la massima cura la cella e il detenuto non trovò assolutamente nulla nemmeno un fiammifero o uno stuzzicadenti che avrebbero potuto servirgli da penna lo stesso mistero circondava il liquido con il quale era stato scritto il messaggio cifrato il direttore uscì dalla cella numero 13 visibilmente seccato ma si consolò portandosi via come trofeo la camicia bianca bene bene comunque non riuscirà ad uscire di qui scrivendo messaggi su una striscia di camicia questo è poco ma sicuro si disse con un certo compiacimento il direttore e in attesa di sviluppi ripose il tutto nel cassetto della sua scrivanina se riesce a evadere da quella cella parola d'onore presento le mie dimissioni il terzo giorno di prigionia la macchina pensante tentò apertamente di comprarsi la sua evasione corrompendo il secondino questi gli aveva portato la cena e se ne stava appoggiato alle sbarre della porta in attesa che l'altro avesse finito di mangiare quando la macchina pensante incominciò a parlare i tubi di scarico della prigione vanno a finire nel fiume vero? se immagino che siano molto piccoli troppo piccoli per strisciarci dentro se è questo quello a cui sta pensando rispose l'altro sogginando seguì un lungo silenzio fino a quando il professore non ebbe terminato di mangiare lei sa che io non sono un delinquente vero? gli chiese poi sì certo e che ho tutto il diritto di essere rimesso in libertà se lo chiedo so anche questo sa io sono venuto qui convinto di poter evadere disse il prigioniero osservando la guardia di sottecchi accetterebbe una ricompensa in denaro per aiutarmi a fuggire il guardiano che era un uomo duro ma onesto guardò la figura sottile e debole del prigioniero la sua grossa testa con quella massa di capelli giallastri e si sentì quasi dispiaciuto per lui penso che le prigioni come questa non siano state fatte perché le persone come lei evadano finì per dire in ogni caso prenderebbe in considerazione una proposta per aiutarmi a fuggire insistete il prigioniero quasi implorante no fu la secca risposta 500 dollari lanciò lì la macchina pensante io non sono un criminale no ripete l'altro mille dollari ho detto no rifiutò di nuovo l'altro e si affrettò ad allontanarsi per fuggire ulteriori tentazioni ma prima si voltò anche se mi dovesse offrire i 10.000 dollari non potrei farla uscire dovrebbe passare attraverso sette porte e io ho le chiavi di due soltanto poi andò a raccontare tutto al direttore il piano numero due è fallito prima un messaggio cifrato e adesso un tentativo di corruzione quando alle 6 di sera si avvicinò la cella numero 13 con la cena il secondino si fermò di colpo sorpreso da uno strano stridore lo stridore tipico dell'acciaio contro l'acciaio al suono dei suoi passi il rumore cessò ma il guardiano che si trovava fuori dalla visuale del prigioniero riprese apposta a muovere i piedi sul pavimento facendo un rumore come se si stesse allontanando anche se in realtà rimaneva sempre sullo stesso posto dopo un momento lo stridio riprese e la guardia si avvicinò cautamente in punta di piedi mettendosi a spiare attraverso le sbarre la macchina pensante era in piedi sul letto di ferro e stava lavorando intorno all'inferriata della minuscola finestra a giudicare dal movimento delle braccia avanti e indietro avanti e indietro si stava servendo di una lima sempre con molta cautela il secondino si allontanò e andò a chiamare il direttore tornarono insieme in punta di piedi davanti alla cella numero 13 si udiva ancora il rumore stridulo il direttore rimase in ascolto per qualche istante poi all'improvviso si affacciò alla porta allora chiese con un sorriso la macchina pensante si voltò di scatto saltò dal letto sul pavimento cercando freneticamente di nascondere qualcosa il direttore si precipitò dentro la cella con la mano tesi in avanti me la dia ordinò no replicò gelido il prigioniero forza me la dia non voglio essere costretto a perquisirla di nuovo no ripete il prigioniero cos'era una lima Van Dusen non fiatò rimase immobile fissando il direttore con gli occhi socchiusi e il volto atteggiato ad un'espressione che si avvicinava molto a quella della delusione il direttore si sentì quasi dispiaciuto per lui il piano numero 3 non ha funzionato vero? disse Bonario è un vero peccato eh? il detenuto non aprì bocca perquisiscilo ordinò il direttore al secondino questi procedette e quasi subito trovò ingegnosamente nascosto nella cintura dei pantaloni un pezzetto di acciaio lungo circa 5 centimetri ed incurvato come una mezzaluna bene fece il direttore osservando l'oggetto preso da uno dei tacchi delle scarpe eh? e sorrise compiaciuto la guardia continuò la perquisizione e dall'altra parte della cintura trovò un altro frammento di acciaio identico al primo i bordi mostravano chiaramente dove erano stati sfregati contro le sbarre della finestra non è possibile aprirsi un varco tra le sbarre con questi osservò il direttore io potrei farlo affermò deciso Vanduse sì forse in sei mesi soghignò il direttore e scosse il capo lentamente guardando il volto del prigioniero che era leggermente arrossito pronto per rinunciare? domandò rinunciare? non ho ancora incominciato fu la secca risposta dell'altro seguì allora un'altra accurata perquisizione della cella i due uomini la portarono a termine con la massima scrupolosità disfacendo persino il letto niente il direttore salì di persone in piedi sulla brand ed esaminò le sbarre della finestra nei punti dove il prigioniero aveva tentato di intaccarle dopo che le ebbe controllate era quasi divertito le ha lucidate un po' nei punti dove le ha strofinate disse al professore che lo stava osservando con aria sconfortata poi afferrò le sbarre con le sue mani robuste e cercò di scuoterle le aste di ferro rimasero immobili incassate saldamente come erano nel granito le esaminò una ad una e rimase completamente soddisfatto poi scese dal letto mi di a retta professore ci rinunci consigliò la macchina pensante scosse il capo e il direttore ed il guardiano se ne andarono appena furono scomparsi lungo il corridoio Van Dusen si mise a sedere sul bordo del letto la testa stretta fra le mani è davvero un pazzo se cerca di avadere da quella cella fu il commento della guardia una volta che furono tornati nell'ufficio naturalmente non può farcela scappare convenne il direttore ma è molto intelligente mi piacerebbe proprio sapere con che cosa ha scritto quel messaggio cifrato a 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 Erano le 4 del mattino seguente, quando un raccapricciante urlo di terrore eccheggiò nella grande prigione. Proveniva da una cella che si trovava più o meno nella parte centrale dell'edificio. Il suo tono mostrava orrore, angoscia e una terribile paura. Il direttore ludì e insieme a tre carcerieri si precipitò lungo il corridoio che portava alla cella numero 13. Mentre correvano, l'urlo spaventoso si ripetè, spegnendosi poi in una specie di lamento. Volti pallidi di prigionieri si affacciarono alle porte delle loro celle, sia ai piani alti che a quelli bassi, e guardarono fuori meravigliati e spaventati. Deve essere quel matto del numero tredici, brontolò il direttore. Si fermò e guardò dentro la cella, mentre un guardiano la illuminava con una lanterna. Quel matto del numero tredici giaceva piacevolmente addormentato sulla branda, supino, la bocca aperta, russando. Mentre i quattro lo osservavano, l'urlo si riuscita, acuto e angoscioso. Veniva da qualche parte più in alto. Il direttore si faceva sempre più pallido mentre saliva di corsa alle scale. All'ultimo piano, nella cella numero 43, che si trovava direttamente sopra la tredici, ma due piani più in alto, trovarono un uomo raggomitolato in un angolo. «Che cosa succede qui?» domandò il direttore. «Grazie a Dio siete venuti!» esclamò il prigioniero, precipitandosi contro le sbarre della sua cella. «Che cosa c'è?» chiese ancora il direttore. Spalancò la porta ed entrò. Il prigioniero cadde in ginocchio e gli si aggrappò alle gambe. Era livido di terrore, con gli occhi spalancati e tremava tutto. Le sue mani, fredde come il ghiaccio, afferrarono quelle del direttore. «Mi tolga da questa cella, la prego! Mi tolga da qui!» implorò. «Ma cosa è successo?» insistette il direttore, ormai spazientito. «Ho sentito qualcosa! Qualcosa!» balbettò l'altro e i suoi occhi vagarono inquieti lungo la cella. «Cosa hai sentito?» «Io... io... io non posso dirlo!» farfugliò il prigioniero. Poi, in un improvviso impeto di terrore, ripetè. «Portatemi via da qui! Mettetemi dove volete! ma tiratemi via da questa cella!» Il direttore e i tre secondini si scambiarono un'occhiata. «Chi è quest'uomo? Di che cosa è accusato?» domandò il direttore. «Si chiama Joseph Ballard», rispose uno. «E' accusato di aver ucciso una donna gettandole dell'acido in faccia. «Ma non possono provarlo!» replicò ansante il detenuto. «Non possono provarlo!» «Per favore, mettetemi in un'altra cella!» Continuava a tenersi aggrappato al direttore, che si liberò bruscamente, e rimase poi, per qualche istante, ad osservare lo sciagurato accovacciato ai suoi piedi che sembrava in preda ad uno di quei feroci, irragionevoli terrori tipici dei bambini. «Stami a sentire, Ballard», disse infine il direttore. «Se hai sentito qualcosa, voglio sapere di che si tratta. Forza, dimmelo!» «Non posso, non posso!» fu la risposta, e iniziò a singhiozzare. «Da dove veniva il rumore?» «Non lo so. Da tutte le parti, o da nessuna. Io l'ho solo sentito.» «Che cos'era? Una voce?» «La prego non mi chieda di rispondere.» «Devi rispondere.» Ordinò il direttore seccamente. «Era una voce, ma non era umana.» Si risolse a dire il prigioniero tra i singhiozzi. «Una voce, ma non umana, eh?» Ripete il direttore perplesso. «Sembrava soffocata. Lontana, spettrale.» Spiegò Ballard. «Veniva dall'interno della prigione o da fuori?» «Non sembrava venire da una direzione precisa. Era qui, là, ovunque. L'ho sentita, le dico, l'ho sentita.» Per un'ora il direttore cercò di ottenere una spiegazione, ma Ballard era diventato improvvisamente ostinato e non volle dire più nulla, limitandosi a pregare che lo trasferissero in un'altra cella, o almeno che gli lasciassero una guardia accanto fino a quando si fosse fatto giorno. Ma le sue richieste vennero respinte bruscamente. «E fai attenzione!» concluse il direttore. «Se urlerai ancora ti farò mettere nella cella imbottita.» Quindi il direttore si allontanò, preoccupato e cupo. Ballard rimase aggrappato alle sbarre fino all'alba, il volto pallido e angosciato dal terrore e gli occhi spiritati che guardavano di fuori. Quel giorno, il quarto della prigionia della macchina pensante, venne decisamente movimentato dal detenuto volontario, che passò la maggior parte del suo tempo alla finestrella della cella. Incominciò con il lanciare un'altra striscia di stoffa alla guardia, che dirigentemente la raccolse e la portò al direttore. Sopra c'era scritto «Ancora tre giorni soltanto.» Il direttore non rimase sorpreso quando lesse quelle parole, né dedusse che la macchina pensante voleva dire che doveva passare ancora tre giorni in carcere e interpretò la frase come una vanteria. Ma ancora una volta, di che cosa si era servito per scrivere e dove aveva trovato quel nuovo pezzo di stoffa? Dove? Come? Esaminò accuratamente il tessuto. Era bianco e morbido, tipico di una camicia. Prese l'indumento che aveva sequestrato al detenuto e fece combaciare con cura il primo pezzo. Il secondo era assolutamente superfluo, non si adattava da nessuna parte, eppure si trattava indubbiamente della stessa stoffa. «Ma dove diavolo si è procurato il necessario per scrivere?» chiese il direttore ad alta voce, rivolgendosi al mondo intero. Un po' più tardi, sempre in quel giorno, la macchina pensante si rivolse dalla sua finestrella alla guardia armata che si trovava di fuori. «Che giorno del mese è oggi?» domandò. «Il quindici». Van Dusen fece mentalmente un calcolo astronomico e concluse soddisfatto che quella sera la luna non sarebbe sorta prima delle nove. «Chi si occupa della manutenzione delle lampade ad arco?» chiese poi. «Gli operai della società elettrica». «Non avete elettricisti qua dentro?» «No. Credo che risparmiereste dei bei soldi se aveste un vostro uomo che si occupasse della cosa». «Non è affar mio», replicò il guardiano. Nel corso della giornata la stessa guardia notò spesso alla finestrella la presenza del prigioniero, ma gli sembrò che avesse un'espressione apatica e che ci fosse una certa malinconia nel suo sguardo. Dopo qualche tempo finì per accettare la presenza di quella testa leonina come un dato di fatto. Aveva visto altri prigionieri comportarsi nello stesso modo. Era il desiderio del mondo esterno. Quel pomeriggio, poco prima che il guardiano terminasse il suo turno e venisse sostituito, la testa del detenuto comparve nuovamente alla finestra. La mano della macchina pensante si sporse dalle sbarre e lasciò cadere qualcosa che venne giù ondeggiando. La guardia lo raccolse. Era una banconota da 5 dollari. «È per lei», gli gridò il prigioniero. Come al solito, il carceriere portò la banconota al direttore. Questi la osservò sospettosamente, come faceva con qualsiasi cosa che provenisse dalla cella numero 13. «Ha detto che era per me», gli spiegò l'altro. «Immagino che sia una specie di mancia», borbottò il direttore. «Non vedo particolari motivi per cui tu non debba accettarla». Si fermò di colpo. Si era ricordato che il professor Van Dusen era entrato nella cella con un solo biglietto da 5 dollari e due da 10 dollari, 25 dollari in tutto. Ora, un biglietto da 5 dollari era stato legato intorno alla prima striscia di stoffa buttata dalla finestra. Il direttore lo aveva conservato e, per essere più sicuro, lo tirò fuori dal cassetto della scrivania e lo studiò. Eppure lì c'era un altro biglietto da 5 dollari, mentre la macchina pensante doveva avere solo biglietti da 10 dollari. «Forse qualcuno gli ha cambiato uno dei due biglietti da 10». Si disse alla fine con un certo sollievo, ma poi, dopo aver riflettuto a lungo, giunse ad una conclusione. Avrebbe perquisito la cella numero 13 in un modo in cui nessuna cella al mondo era mai stata perquisita. Se qualcuno riusciva a scrivere quando ne aveva voglia, a cambiare il denaro, a fare altre cose inspiegabili, questo voleva dire che c'era qualcosa di radicalmente sbagliato nella sua prigione. Decise di fare irruzione nella cella di notte. L'E3 sarebbe stata un'ora eccellente. Ci doveva pur essere un momento in cui la macchina pensante faceva quelle stranezze, e la notte sembrava il periodo più probabile. Fu così che il direttore piombò quella notte, alle 3, nella cella numero 13. Prima si fermò davanti alla porta con l'orecchio teso. Non si sentiva alcun rumore, salvo il respiro regolare del detenuto. Le chiavi fecero scattare le due serrature il più silenziosamente possibile. quindi il direttore entrò in punta di piedi, richiudendo il battente alle sue spalle. Poi, all'improvviso, inquadrò il volto del prigioniero nel raggio della sua lanterna. Se aveva pensato di spaventare la macchina pensante, si era sbagliato, perché quello si limitò ad aprire tranquillamente gli occhi, prendere i suoi occhiali, e chiedere in tono di voce, molto normale, chi è? Sarebbe inutile descrivere la perquisizione eseguita dal direttore. Fu accuratissima. Non venne trascurato un solo centimetro quadrato della cella o del letto. Trovò il buco rotondo nel pavimento e, in un lampo di ispirazione, vi infilò dentro le grosse dita. Dopo aver frugato per qualche istante, ne trasse fuori qualcosa che guardò alla luce della lanterna. Ah! esclamò. Ciò che aveva estratto dal buco era un topo, un topo morto. L'ispirazione che lo aveva spinto a frugare svanì come nebbia al sole, ma lui continuò comunque le ricerche. Senza dire una parola, la macchina pensante si alzò e con un calcio spinse il topo sotto la porta, nel corridoio. Il direttore salì in piedi sul letto e provò le sbare della finestra. Erano tutte perfettamente a posto, così come lo erano quelle della porta. Allora iniziò a controllare gli indumenti del prigioniero, cominciando dalle scarpe. Non c'era nascosto nulla. Quindi passò alla cintura dei calzoni. Niente ancora. Fu poi la volta delle tasche, da una delle quali recuperò alcune banconote, che esaminò. Cinque biglietti da un dollaro? esclamò sbalordito. Esatto, convenne il detenuto. Ma lei... lei aveva due biglietti da dieci e uno da cinque. Come... come ha fatto? Questo è affare mio, replicò la macchina pensante. Forse qualcuno dei miei uomini le ha cambiato il denaro? Mi risponda, sul suo onore. Prima di parlare, la macchina pensante indugiò una frazione di secondo. No, disse alla fine. Bene allora, come ha fatto? domandò il direttore, che era ormai pronto a credere a qualsiasi cosa. Come le ho già detto, è affare mio, ripetè di nuovo il prigioniero. Il direttore fissò fuori bondo l'imminente scienziato. Aveva la sensazione, anzi sapeva, che quell'uomo lo stava prendendo in giro. Ma non riusciva a capire come. Se quello fosse stato un detenuto come tutti gli altri, gli avrebbe strappato la verità. Ma in tal caso, forse, le cose incomprensibili che erano accadute non sarebbero venute a sua conoscenza in maniera così diretta. Nessuno dei due parlò per un bel po' di tempo. Poi, all'improvviso, il direttore si voltò, fuori bondo, e uscì dalla cella sbattendo la porta. Non aveva trovato il coraggio di aggiungere altro. Diede un'occhiata all'orologio. Erano le quattro meno dieci. Era appena andato a dormire, quando l'urlo straziante eccheggiò ancora una volta nella prigione. Mormorando alcune parole non precisamente eleganti, ma molto espressive, riaccese la lanterna e si precipitò nella prigione dirigendosi verso la cella al piano superiore. Ancora una volta Ballard si teneva schiacciato contro le sbarre della porta della sua cella e stava urlando a squarciagola. Smise solo quando il direttore gli proiettò addosso il fascio di luce della lanterna. «Mi tiri fuori! Mi tiri fuori!» implorò. «Sì, sì, sì, sono stato io! Sono stato io a ucciderla! Portatelo via adesso!» «Portare via cosa?» chiese il direttore. «Le ho buttato l'acido in faccia! Sono stato io! Lo confesso! Tiratemi fuori da qui adesso!» Ballard era in uno stato così pietoso che fu soltanto un atto di pietà, quello di farlo uscire nel corridoio. Si rannicchiò in un angolo come un animale ferito e si coprì le orecchie con le mani. Ci volle più di un'ora per calmarlo a sufficienza per farlo parlare. Allora spiegò in maniera del tutto incoerente cos'era accaduto. La notte precedente, verso le quattro, aveva udito una voce, una voce sepolcrale, soffocata, lamentosa. «Che cosa diceva?» chiese il direttore incuriosito. «Acido! Acido! Acido! Acido!» sussurrò ansante il prigioniero. «Mi accusava, capisce? Acido! Acido! sono stato io a gettare l'acido e quella donna è morta! È morta!» e si lasciò andare ad un lungo gemito di terrore. «Acido!» ripetè il direttore perplesso. Non riusciva a capirci nulla. «Esatto! Acido! Questo è ciò che ho sentito! La stessa parola ripetuta più volte! Oh, ci sono state altre parole, ma non sono riuscito a capirle!» «Questo è quello che è successo la scorsa notte, vero? E stanotte? Cosa è accaduto questa notte? Che cosa ti ha spaventato poco fa?» «La stessa cosa!» rispose il prigioniero ansimando. «Acido! Acido! Acido!» Si coprì il viso con le mani e incominciò a tremare. «Era acido quello che ho usato contro di lei, ma non volevo ucciderla!» «Ho udito solo quella parola!» «Era qualcosa che mi accusava! Che mi accusava di essere un assassino!» «Di essere un assassino!» Mormorò qualcosa tra sé, quindi tacque. «Non hai udito altro?» «Sì, ma non sono riuscito a capire! Qualcosa appena! Una o due parole!» «Beh, e che cosa dicevano?» «Ho sentito ripetere acido tre volte!» «Un lungo gemito!» «Poi ho sentito...» «Cappello numero otto!» «Cappello numero otto, sì!» «L'ho sentito due volte!» «Cappello numero otto!» ripete il direttore. «Che diavolo significa cappello numero otto?» «Da quanto ne so, le voci della coscienza non hanno mai parlato di cappelli numero otto!» «Mi dia retta, direttore!» «È pazzo!» concluse uno dei secondini con l'aria di pronunciare un giudizio inappellabile. «Sì, lo penso anch'io!» convenne il direttore. «Deve essere proprio pazzo!» «Probabilmente ha sentito qualche rumore e si è spaventato a morte!» «Sta ancora tremando tutto!» «Cappello numero otto!» «Che mi venga un colpo!» Il quinto giorno di prigionia della macchina pensante il direttore aveva l'espressione di una persona braccata. Non vedeva l'ora che quella faccenda finisse e aveva la netta sensazione che il suo famoso prigioniero si stesse prendendo gioco di lui e fosse o no così la macchina pensante non aveva perso nemmeno un briciolo del suo senso dell'umorismo. Infatti, anche quel pomeriggio lanciò alla guardia nel cortile un'altra striscia di stoffa con scritte le parole «Ancora due giorni soltanto!» e con questa gettò anche mezzo dollaro. Ora il direttore sapeva ne era certo che il prigioniero della cella numero 13 non aveva nessun mezzo dollaro non poteva averne così come non poteva avere penna inchiostro e pezzi di stoffa. Eppure li aveva era un fatto certo non un'ipotesi per questo il direttore aveva quell'espressione sul volto. Gli era rimasta impressa nel cervello anche la storia dell'acido e del cappello numero 8. Naturalmente, quelle parole non avevano nessun significato. Era solo il delirio di un assassino impazzito che era stato spinto dalla paura a confessare il suo delitto. Tuttavia, da quando la prigione ospitava la macchina pensante, erano accadute troppe cose che non avevano nessun significato. Il sesto giorno il direttore ricevette una lettera con la quale si annunciava che il dottor Ransom e il signor Fielding sarebbero venuti la sera del giorno dopo, giovedì, alla prigione di Kinshaw. E nel caso il professor Van Dusen non fosse ancora evaso e loro ritenevano che non fosse ancora successo dato che non avevano più avuto sue notizie, lo avrebbero incontrato lì. Nel caso non fosse ancora evaso. Il direttore sbottò a voce alta un cupo sorriso sul volto. Evaso. Quel giorno la macchina pensante rallegrò il direttore con tre messaggi. Erano scritti sulla solita stoffa e trattavano genericamente dell'appuntamento delle otto e mezza di giovedì sera, appuntamento che era stato fissato dalla macchina pensante quando era entrato in carcere. Nel pomeriggio del settimo giorno il direttore passò davanti alla cella numero 13 e guardò al suo interno. Il detenuto era disteso sul lettino di ferro e sembrava appisolato. La cella, osservandola da lì, sembrava la stessa di sempre. Il direttore sarebbe stato pronto a giurare che nessun uomo sarebbe riuscito ad uscirne fra quell'ora, le quattro del pomeriggio e le otto e mezzo di quella sera. Quando, tornando indietro, vi ripassò ancora davanti, il direttore udì nuovamente il respiro regolare del prigioniero e, avvicinandosi alla porta, diede un'occhiata all'interno. Non lo avrebbe fatto se Van Dusen fosse stato davanti alla porta, appoggiato alle sbarre, ma ora le cose erano, beh, un po' diverse. Un raggio di luce cadeva dall'alta finestrella sul volto del prigioniero. Il direttore notò per la prima volta che il detenuto aveva l'aria sofferente e stanca. Proprio in quel momento, la macchina pensante si mosse un poco e l'altro, sentendosi colpevole, si affrettò ad allontanarsi lungo il corridoio. Quella sera, dopo le sei, incontrò il secondino. Tutto a posto nella cella numero 13? domandò. Sì, signore. Solo il prigioniero non ha mangiato molto. Fu con la convinzione di aver fatto interamente il proprio dovere che il direttore ricevette poco dopo le sette, il dottor Ranson e il signor Fielding. Voleva mostrare ai due visitatori i vari messaggi scritti sui pezzi di stoffa ed esporre loro il lungo racconto dei suoi guai. Ma prima che questo gli fosse possibile, comparve nel suo ufficio la guardia del lato del carcere rivolto verso il fiume. La lampada ad arco della mia parte di cortile e non si accende, signore. Cominciò. Accidenti, quell'uomo porta davvero sfortuna, tuonò il direttore. Da quando è arrivato qui ne succedono di tutti i colori. Il secondino tornò al suo posto, nell'oscurità, e il direttore telefonò alla società elettrica. Pronto? Parla il direttore della prigione di Kinshaw, disse. Dovreste mandare qui subito tre o quattro operai a riparare una lampada ad arco. La risposta fu evidentemente positiva e il direttore, dopo aver riagganciato, uscì nel cortile per controllare la situazione. Mentre il dottor Ranson e il signor Fielding lo aspettavano, la guardia che si trovava al cancello esterno entrò nell'ufficio portando con sé una lettera con consegna urgente. Il dottor Ranson diede un'occhiata all'indirizzo e quando la guardia si fu allontanata esaminò più da vicino la lettera. Per Giove! esclamò. Che c'è? domandò Fielding. Senza dire una parola all'altro gli passò la lettera. Fielding la esaminò attentamente. Una coincidenza commentò. Non può che trattarsi di una coincidenza. Erano quasi le otto quando il direttore rientrò nel suo ufficio. Gli elettricisti erano arrivati con un carattrezzi ed erano già al lavoro. Il direttore citofonò al custode del cancello esterno. «Quanti elettricisti sono entrati?» chiese. «Quattro?» «Tre opera in tuta e un direttore, eh? In giacca nera e pantaloni a righe. Bene. Accertati poi che escano quattro persone soltanto. È tutto.» Si rivolse a Ranson e a Fielding. «Dobbiamo stare attenti qui. Specie ora.» e nel suo tono c'era una sfumatura di sarcasmo. Prese distrattamente la lettera che gli era stata recapitata e incominciò ad aprirla. «Quando avrò letto questa lettera, signori, voglio raccontarvi qualcosa a proposito di come...» «Oh santo cielo!» Si interruppe di colpo dopo aver dato un'occhiata al foglio. Poi rimase immobile seduto, la bocca spalancata, folgorato dallo stupore. «Che cosa c'è?» si preoccupò Fielding. «Una lettera urgente proveniente dalla cella numero 13.» farfugliò il direttore. «Un invito a cena.» «Cosa?» «Che cosa?» Gli altri due balzarono in piedi. Il direttore rimase per un attimo a fissare la lettera, come ipnotizzato. Poi chiamò bruscamente la guardia che si trovava fuori nel corridoio. «Corri a vedere se nella cella numero 13 c'è ancora il prigioniero, vai!» Il guardiano partì subito, mentre Ransom e Fielding esaminavano la lettera. «È la scrittura di Van Dusen, non c'è dubbio», disse il signor Ransom. «La conosco troppo bene.» In quel momento squillò la suoneria del citofono che collegava l'ufficio del direttore con il cancello dell'ingresso. Il direttore, che sembrava come in trance, sollevò il ricevitore. «Come? Due giornalisti?» «Sì, sì, lasciali entrare.» Si rivolse di scatto a Ransom e a Fielding. «Ma è impossibile! quell'uomo non può essere fuori. Deve essere per forza nella sua cella.» Proprio in quel momento la guardia ricomparve. «È ancora nella sua cella, signore», riferì. «L'ho visto io di persona. È sdraiato sulla brandina.» «Ecco, ve l'avevo detto!» esclamò il direttore e tornò a respirare più liberamente. «Ma come avrà fatto a impostare questa lettera?» Un colpo venne bussato alla porta d'acciaio che dal cortile conduceva all'ufficio del direttore. «Devono essere i giornalisti», spiegò quest'ultimo. «Falli entrare!» ordinò al secondino. Poi, rivolto ai suoi due ospiti, raccomandò. «Non dite loro nulla di tutto questo, altrimenti non mi lasceranno più vivere.» «Buonasera, signori!» li salutò uno dei due. Era Hutchinson Hutch e il direttore lo conosceva molto bene. «E allora?» domandò invece l'altro con un tono di voce piuttosto irritante. «Eccomi qui!» era la macchina pensante. Van Dusen guardò bellicoso il direttore, il quale, sempre seduto, lo fissava a bocca aperta, incapace di parlare. Ranson e Fielding erano esterrefatti, ma non sapevano quello che il direttore sapeva. Loro erano semplicemente sbalorditi, mentre il direttore sembrava come paralizzato. Hutchinson Hutch osservava la scena con aria soddisfatta. «Come avete fatto?» balbettò alla fine il direttore. «Torniamo alla cella», rispose la macchina pensante, con quella voce infastidita che i suoi amici e collaboratori conoscevano così bene. «Il direttore, sempre come in trance, li guidò nell'interno della prigione. Illumini la cella con la lampada», ordinò Van Dusen. Il direttore obbedì. Non c'era nulla di insolito nell'aspetto della cella e lì, sul letto, sul letto giaceva la sagoma della macchina pensante. Certo che era lui. Ecco intravedersi i caratteristici capelli gialli. Il direttore si voltò a guardare l'uomo che gli stava accanto. Si trattava per caso di uno strano sogno. Con mani tremanti fece scattare le serrature della cella e la macchina pensante entrò. «Guardi qua», disse. Diede un calcio alle sbarre nella parte inferiore della porta e tre di esse si spostarono. Una quarta si staccò del tutto e rotolò lungo il corridoio. «E guardi anche qui», continuò l'ex detenuto dopo essere salito in piedi sul letto per raggiungere la finestrella. Passò la mano da un lato all'altro dell'apertura e tutte le sbarre dell'inferiata si staccarono. «Ma che cosa c'è sul letto?» domandò il direttore che si stava riprendendo a poco a poco. «Una parrucca?» fu la risposta. «Tiri via le coperte». Il direttore obbedì. Sotto di essa c'erano una spessa corda rotolata di almeno dieci metri, un pugnale, tre lime, più di tre metri di filo elettrico, un paio di pinze d'acciaio, un martelletto con il relativo manico e una piccola pistola. «Come ha fatto a portare tutta questa roba qua dentro?» domandò il direttore. «Non pensi nemmeno per un istante di riuscire a tenere sotto chiave un uomo in grado di servirsi del proprio cervello», replicò la macchina pensante. «E ora andiamo o arriveremo in ritardo». Quella che si svolse nell'appartamento del professor Van Dusen fu una cena dominata dall'impazienza e piuttosto silenziosa. Gli ospiti erano il dottor Renson, Alfred Fielding, il direttore della prigione di Kinshaw e il giornalista Hutchinson Hatch. Il pasto venne servito con la massima puntualità, secondo le istruzioni impartite una settimana prima. Il dottor Renson trovò deliziosi i carciofi. Quando la cena fu terminata, la macchina pensante si rivolse al dottor Renson e lo guardò irritato, strizzando un po' con gli occhi. «Ci crede ora?» domandò. «Ci credo», rispose il dottor Renson. «Ammette che si è trattato di una prova condotta lealmente e onestamente?» «Lo ammetto». Così come gli altri ed in particolare il direttore, anche Renson stava aspettando con ansia la spiegazione. «E se ci raccontasse?» cominciò Fielding. «Oh sì, ci spieghi, la prego», lo incalzò il direttore. La macchina pensante si accomodò meglio gli occhiali sul naso, lanciò un paio di occhiate preparatorie ai suoi ascoltatori e incominciò a parlare. incominciò dall'inizio naturalmente e mai nessun uomo parlò ad ascoltatori più interessati. I nostri accordi erano che sarei entrato in cella portando con me soltanto gli indumenti necessari e che me ne sarei andato da quella stessa cella nel giro di una settimana. Non avevo mai visto il penitenziario di Kinshaw. Quando entrai nella prigione chiesi della polvere dentifricia, due biglietti da dieci e uno da cinque dollari e chiesi anche che mi venissero lucidate le scarpe. Anche se queste richieste mi fossero state negate, non mi sarebbe importato molto, ma voi acconsentiste. Sapevo che nella cella non ci sarebbe stato nulla che, a vostro giudizio, sarebbe potuto riuscire utile al mio scopo. Così, una volta che il direttore mi avesse chiuso dentro a doppia mandata, io mi sarei trovato evidentemente senza alcun tipo di aiuto, a meno che non fossi riuscito a ottenere tre cose dall'aria apparentemente innocente. Erano cose che sarebbero state concesse a qualunque condannato a morte, vero, direttore? Polvere dentifricia e scarpe lucidate, sì, il denaro o no, fu la risposta. Qualsiasi cosa è pericolosa nelle mani di chi sappia servirsene? Riprese la macchina pensante. La prima notte non feci altro che dormire e dare la caccia ai topi. Guardò il direttore. Quando si parlò per la prima volta dell'esperimento, sapevo che quella notte non avrei potuto concludere nulla. Perciò suggerì che la prova cominciasse il giorno dopo. Voi, signori, avete pensato che volessi avere il tempo necessario per organizzare la mia fuga ricorrendo ad un aiuto esterno, ma non era vero. Sapevo che avrei potuto comunque comunicare con chi mi fosse piaciuto e quando mi fosse piaciuto. Il direttore lo fissò per un momento, poi continuò a fumare con aria solenne. La mattina dopo fui svegliato alle sei dal secondino che mi portava la colazione. Continuò lo scienziato. Mi disse che il pranzo era a mezzogiorno e la cena alle sei di sera. Negli intervalli, aggiunse, sarei rimasto piuttosto solo. Così, subito dopo la prima colazione, esaminai dalla finestrella della cella cosa c'era nei dintorni. Una semplice occhiata mi bastò a convincermi che sarebbe stato inutile cercare di scalare il muro, anche se fossi uscito dalla cella attraverso la finestrella, perché il mio scopo era di uscire non soltanto dalla cella, ma anche dalla prigione. Naturalmente sarei potuto passare al di sopra del muro, ma evadere da quella parte avrebbe richiesto preparativi molto più lunghi. Di conseguenza, almeno per il momento, accantonai quella possibilità. Da quella prima osservazione avevo appreso che il fiume scorreva lungo quel lato della prigione e che c'era anche un campo da gioco. Tali mie supposizioni vennero successivamente confermate da un guardiano. Appresi anche una cosa molto importante e cioè che chiunque poteva avvicinarsi da quella parte al muro della prigione senza richiamare su di sé un'attenzione particolare. Questa era una cosa che valeva la pena di tenere a mente e io la tenne a mente. Ma la cosa che attrasse soprattutto la mia attenzione fu il cavo di alimentazione della lampada ad arco, quello che scorreva a breve distanza, diciamo non più di un metro dalla finestra della mia cella. Si trattava di un particolare molto prezioso nel caso avessi ritenuto necessario spegnere quella lampada ad arco. Ah, esclamò il direttore, è stato lei allora a spegnerla questa sera. Avendo appreso tutto quello che potevo apprendere dalla finestra, continuò la macchina pensante senza tener conto dell'interruzione. presi in considerazione l'idea di fuggire attraverso l'interno della prigione stessa. Ricordavo come era arrivato fino alla cella, percorso che sapevo essere l'unica via d'uscita. Sette porte mi dividevano dall'esterno del carcere. Così, sempre per il momento, rinunciai all'idea di fuggire da quella parte. Non potevo certo attraversare i muri di granito della cella. La macchina pensante fece una breve pausa e il dottor Ranson accese un altro sigaro. Per quasi un minuto regnò un silenzio profondo. Poi lo scienziato continuò. Mentre stavo ragionando su queste cose, un topo mi passò di corsa fra i piedi e questo mi suggerì una nuova linea di pensiero. C'erano nella cella almeno sei topi. Potevo vedere i loro occhietti tondi e lucenti, ma avevo anche notato che nessuno di loro era entrato nella cella passando attraverso la fessura che si trovava sotto la porta. Li spaventai apposta e temi d'occhio la fessura per controllare se scappavano da quella parte. Nessuno lo fece e tuttavia scomparvero tutti. Era evidente che c'era un'altra via d'uscita e un'altra via d'uscita significava un'altra apertura. La cercai e la trovai. Era un vecchio tubo di scarico in disuso da molto tempo e in gombro di sporcizia e di polvere, ma era da lì che i topi erano venuti. Ed erano venuti da qualche posto. Da dove, mi chiesi. Di solito i tubi di scarico sbucano fuori dall'area della prigione. questo probabilmente conduceva al fiume o alle sue immediate vicinanze. I topi, quindi, dovevano venire da quella direzione. Il fatto che venivano da quella parte e riflettei significava che dovevano percorrere tutto quanto il tubo, perché non era immaginabile che un tubo di ferro massiccio o di piombo presentasse altre aperture all'infuori di quella alla fine. Quando la guardia arrivò con il pasto, mi disse senza rendersene conto due cose della massima importanza. La prima era che un nuovo sistema di tubazioni era stato impiantato nella prigione sette anni addietro. La seconda che il fiume distava solo un centinaio di metri. Seppi così con assoluta certezza che il tubo apparteneva al vecchio sistema e che inevitabilmente doveva essere inclinato verso il fiume. Ma il problema adesso era finiva nell'acqua o sul terreno. Era questa la domanda alla quale dovevo dare una risposta. La trovai acchiappando parecchi topi. Il mio secondino si stupì molto di vedermi impiegato in questa occupazione. Ne esaminai almeno una dozzina. Erano perfettamente asciutti. Erano passati dal tubo e particolare della massima importanza non si trattava di topi domestici ma di topi di campagna. L'altra estremità del tubo dunque sbucava sulla terra e oltre il muro fuori dalla prigione e fin qui andava tutto bene. Sapevo però che se avessi voluto lavorare in questa direzione dovevo far concentrare da un'altra parte l'attenzione del direttore. Vedete dicendo al direttore che ero entrato in prigione con il solo scopo di evadere avete reso la mia prova molto più difficile e io di conseguenza dovevo portarlo fuori strada con dei falsi indizi. Il direttore lo guardò con negli occhi un'espressione di tristezza. La prima cosa fu quella di fargli credere che cercavo di mettermi in comunicazione con lei dottor Ranson. Così scrissi qualche parola su una striscia di cotone che strappai dalla mia camicia e indirizzai al dottor Ranson. Ne feci in un rotolino ci misi intorno un biglietto da cinque dollari e lo buttai dalla finestra. Sapevo che la guardia l'avrebbe portato al direttore ma speravo a essere sincero che lo trasmettesse ugualmente a lei dottor Ranson. Ha ancora con sé quel primo messaggio direttore? Il direttore lo tirò fuori e lo mostrò. Sì ma che cosa vuol dire? Chiese. lo legga alla rovescia incominciando dalla firma Q e ignorando la divisione delle parole. Q U E questo? Cominciò piano poi dopo aver esaminato per un momento il testo l'esse sogghignando. Questo non è il modo in cui intendo evadere. E io che cosa avrei dovuto pensare di questo? Mi bastava sapere che la sua attenzione si sarebbe concentrata sul messaggio cosa che infatti avvenne spiegò Van Duse Se poi fosse riuscito a scoprire come il messaggio andava letto sarebbe stata una specie di gentile rimprovero. Con che cosa l'ha scritto? Intervenne il dottor Ranson dopo aver esaminato la striscia di cotone e averla passata a fielding Con questo rispose l'ex detenuto e mostrò il piede Indossava ancora le scarpe con le quali era entrato in prigione anche se il lucido era ormai del tutto scomparso grattato via Il lucido delle scarpe sciolto con dell'acqua è stato il mio inchiostro La punta di metallo delle stringhe invece è stata una penna più che efficiente Il direttore alzò gli occhi al cielo e scoppiò improvvisamente in una risata in parte di sollievo e in parte di divertimento Ah 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 lei è straordinario esclamò ammirato Vada avanti la prego Bene il messaggio causò come conseguenza un'immediata perquisizione della mia cella da parte del direttore continuò la macchina pensante e in effetti ero ansioso di far sì che le perquisizioni della mia cella diventassero una costante in tal modo non trovando mai nulla il direttore avrebbe finito per stancarsi e lasciar perdere e in effetti fu proprio quello che accadde Il direttore arrossì Costui proseguì Van Dusen indicando il direttore mi requisì la mia camicia bianca e me ne diede una da prigioniero era molto soddisfatto del fatto che quel pezzo di stoffa che aveva era l'unico che risultava mancante dalla mia camicia ma mentre perquisiva la cella io avevo in bocca arrotolato in una piccola palla un altro pezzo di stoffa di circa una ventina di centimetri 20 centimetri di quella camicia e da dove diavolo li ha presi si stupì il direttore il davanti di tutte le camicie bianche inamidate spiegò l'altro è formato da tre strati di stoffa avevo strappato lo strato che era in mezzo lasciando gli altri due sapevo che non se ne sarebbe accorto seguì una breve pausa durante la quale il direttore guardò gli altri con un sorriso forzato e piuttosto imbarazzato dopo essermi liberato almeno per un po' del direttore dandogli qualcosa d'altro a cui pensare continuò il professore mossi il mio primo vero passo verso la libertà sapevo grazie al ragionamento fatto prima che il tubo sbucava fuori dal carcere in qualche punto del terreno sapevo anche che c'erano molti ragazzi che giocavano lì e sapevo anche che era da lì che i topi arrivavano nella mia cella con queste informazioni mi domandai sarei stato in grado di comunicare con qualcuno all'esterno? per prima cosa avrei avuto bisogno da quanto potevo capire di un lungo ed abbastanza robusto filo in modo da ma ecco qui sollevò i pantaloni sulle gambe e mostrò le calze erano di filo robusto e di buona qualità ma la parte superiore di entrambe non c'era più le ho disfatte all'inizio è stato un po' complicato ma poi ho continuato senza alcun problema e in questo modo mi sono procurato circa 400 metri di filo sul quale contare a quel punto mi misi a scrivere piuttosto faticosamente ve lo assicuro una lettera su metà della parte di stoffa che mi era rimasta spiegando a questo signore ed indicò Hutchinson Hutch la situazione in cui mi trovavo pensando all'articolo che avrebbe potuto scrivere per il suo giornale ero certo che mi avrebbe aiutato legai molto accuratamente alla lettera scritta sulla stoffa un biglietto da 10 dollari non c'è sistema migliore per attirare l'attenzione di chiunque e vi scrissi sopra chi trova questo messaggio lo consegni a Hutchinson Hutch del Daily American e ne riceverà in cambio altri 10 dollari per l'informazione la cosa successiva da fare era far arrivare il messaggio dove uno dei ragazzi avrebbe potuto trovarlo c'erano due possibilità ma io ovviamente scelsi la migliore presi un topo ero diventato un vero esperto nell'arte di acchiapparli legai solidamente la stoffa e i 10 dollari ad una delle sue zampe assicurai il mio filo ad un'altra e lo lasciai andare nel tubo ragionando pensai che la paura avrebbe fatto correre il topo fino a quando non si fosse trovato fuori dal tubo e che solo allora arrivato sul terreno si sarebbe fermato per cercare di liberarsi della stoffa e del denaro dal momento in cui il topo scomparve giù per il tubo polveroso la mia ansia non fece che crescere sarebbero potute accadere mille cose il topo poteva rosicchiare il filo altri topi avrebbero potuto rosicchiarlo oppure il topo sarebbe potuto uscire dal tubo e lasciare il messaggio e il denaro in un posto dove nessuno li avrebbe mai trovati e almeno un migliaio di altre cose del genere sarebbero potute accadere cominciarono così alcune ore di grande nervosismo anche se il fatto che il topo aveva corso talmente tanto da lasciarmi in mano solo pochi centimetri di filo mi faceva ritenere che fosse arrivato fuori dal tubo avevo dato al signor Hatch istruzioni molto accurate su quello che avrebbe dovuto fare se il messaggio gli fosse pervenuto ma la questione era gli sarebbe mai arrivato a questo punto non potevo fare altro che aspettare e progettare altri piani nel caso questo fallisse tentai apertamente di corrompere il mio secondino e venne a sapere così che egli aveva le chiavi di due soltanto delle sette porte che mi separavano dalla libertà poi feci un'altra cosa per innervosire il direttore mi tolsi dalle scarpe le due semissuole d'acciaio che servono a proteggere i tacchi e finsi di voler segare con quelle le sbarre della finestrella della mia cella il direttore mi fece una bella sfuriata prese anche l'abitudine di scuotere energicamente le sbarre della finestra per vedere se erano salde e lo erano allora il direttore tornò a sorridere ormai non si meravigliava più di nulla avevo fatto in tal modo tutto quello che potevo fare non mi restava che attendere e vedere cosa sarebbe successo continuò lo scienziato non potevo sapere se il mio messaggio era stato consegnato o se era stato trovato o se il topo l'aveva rosicchiato e non osavo tirare indietro dal tubo quell'unico filo che mi metteva in contatto con l'esterno quando andai a letto quella sera non chiusi occhio per paura che proprio mentre dormivo arrivasse quel lieve strappo del filo che era il segnale indicato per dirmi che il signor Hatch aveva ricevuto il mio messaggio intorno alle tre e mezzo o almeno pensai che quella fosse l'ora avvertì il lieve strappo e credo che nessun condannato a morte abbia mai accolto qualcosa con maggiore gioia la macchina pensante fece una pausa e si rivolse al giornalista è meglio che sia lei a spiegare quello che ha fatto gli disse il messaggio raccontò Hatch mi venne recapitato da un ragazzino che era stato a giocare a baseball mi resi subito conto dell'interesse giornalistico della cosa così diedi al ragazzo altri dieci dollari e mi procurai parecchie spolette di filo di seta della cordicella sottile e robusta e un rotolo di filo metallico flessibile il messaggio del professore suggeriva anche di pregare chi l'aveva trovato di mostrarmi il punto esatto dove era stato raccolto e mi chiedeva di iniziare da lì le mie ricerche cominciando alle due di notte se io avessi trovato l'altro capo del filo avrei dovuto tirarlo leggermente tre volte poi dopo un attimo una quarta volta iniziai a cercare aiutandomi con una piccola lampada elettrica mi ci volle un'ora e venti minuti prima di trovare l'estremità del tubo di scarico mezza nascosta tra le erbacce in quel punto il tubo era molto largo diciamo una trentina di centimetri trovai il capo del filo di cotone e diedi una serie di piccoli strappi secondo le istruzioni ricevute e subito un altro piccolo strappo mi rispose allora annodai il filo di seta e quello di cotone e il professor Van Dusen cominciò a tirarlo verso di lui mi è venuto quasi un colpo per la paura che il filo si spezzasse alla fine del filo di seta attaccai la cordicella e quando questa cominciò a salire con regolarità vi attaccai anche il filo metallico a quel punto avevamo reso operativa una solida linea di comunicazione che i topi non sarebbero stati in grado di rosicchiare fra la bocca del tubo e la cella la macchina pensante alzò una mano e Hatch si interruppe tutto questo precisò lo scienziato si svolse nel silenzio più assoluto ma quando ebbe in mano il filo elettrico avrei voluto urlare tentammo allora un altro esperimento che avevo già preannunciato a Hatch provai il tubo come una sorta di telefono senza fili non riuscivamo a sentirci chiaramente e io non osavo alzare la voce per timore di attirare l'attenzione delle guardie ma alla fine riuscì a far capire a Hatch le cose che mi servivano subito sembrava che avesse delle grandi difficoltà ad afferrare le mie parole quando gli chiesi dell'acido nitrico e dovetti ripetere parecchie volte la parola acido prima che mi capisse proprio in quel momento udì un urlo in una cella sopra la mia testa intuì immediatamente che qualcuno ci aveva sentito parlare e quando mi accorsi direttore che lei stava arrivando finsi di dormire se fosse entrato nella mia cella in quel momento l'intero piano di fuga sarebbe venuto alla luce ma per fortuna lei proseguì credo che fu quello il momento in cui mi trovai più vicino ad essere scoperto stabilita questa linea di comunicazione è facile capire come si è riuscito a far arrivare e far scomparire le cose a mio piacimento mi limitavo semplicemente a lasciarle cadere nel tubo lei direttore non poteva raggiungere il filo metallico con le sue dita sono troppo grosse le mie invece come vede sono più lunghe e sottili in aggiunta avevo lasciato un topo di guardia all'apertura del tubo si ricorda? si mi ricordo fece con una smorfia il direttore avevo pensato che se qualcuno avesse avuto la tentazione di esplorare quel buco il topo morto avrebbe raffreddato il suo entusiasmo il signor Hatch non riuscì a farmi arrivare nulla di utile attraverso il tubo fino alla notte successiva anche se per fare una prova mi mandò su dieci dollari in spiccioli intanto io procedetti con le altre parti del mio piano ed elaborai il metodo di fuga che alla fine ho utilizzato per raggiungere con successo il mio scopo era necessario che il guardiano di servizio nel cortile si abituasse a vedermi alla finestrella della cella a tal fine lasciai cadere dei messaggi che lui regolarmente raccolse che avevano un tono tale da far credere al direttore o almeno così speravo che qualcuna delle sue guardie comunicasse per conto mio con il mondo esterno rimanevo alla finestra per ore intere guardando fuori in modo che la guardia potesse vedermi e di tanto in tanto gli rivolgevo la parola così seppi che la prigione non disponeva di suoi elettricisti e che se si fosse verificato qualche guasto bisognava ricorrere alla società elettrica questo particolare mi spalancò alla perfezione la via alla libertà così progettai di tagliare di tagliare i fili che alimentavano la lampada ad arco del tratto di cortile corrispondente alla mia cella e di fare ciò nel tardo pomeriggio del mio ultimo giorno di prigionia proprio quando avessi incominciato ad imbronire i fili passavano a pochissima distanza dalla mia finestra e li avrei tagliati servendomi di un filo metallico imbevuto nell'acido nitrico questo avrebbe fatto sì che mentre gli elettricisti cercavano di individuare il guasto quel tratto di cortile sarebbe rimasto completamente al buio e questo avrebbe anche permesso al signor Hatch di entrare nel cortile della prigione a questo punto c'era solo un'altra cosa da fare prima di procedere all'ultima fase dell'evasione dovevo definire gli ultimi particolari con Hatch servendoci del nostro telefono senza figli lo feci in circa mezz'ora dopo che il direttore ebbe lasciato la mia cella la quarta notte della mia prigionia di nuovo il signor Hatch ebbe serie difficoltà a capirmi e io dovetti di nuovo ripetergli più volte le parole acido e cappello numero 8 che è la misura che porto e furono proprio queste parole a indurre il prigioniero della cella che si trovava a uno dei piani superiori a confessare il suo delitto me lo ha raccontato il giorno dopo uno dei secondini il prigioniero aveva sentito le nostre voci anche se in modo molto confuso attraverso la tubazione che raggiungeva anche la sua cella e dato che la cella che si trovava immediatamente sopra la mia era vuota nessun altro le aveva udite naturalmente il lavoro di tagliare le sbarre d'acciaio della finestra e della porta fu relativamente facile servendomi dell'acido nitrico che avevo ricevuto attraverso il solito tubo in bottigliette di latta anche se fu un lavoro che mi portò via un'infinità di tempo nella quinta nella sesta e nella settima giornata della mia prigionia il guardiano nel cortile rimase a guardarmi mentre io lavoravo sulle sbarre della finestra con un filo metallico intriso nell'acido la polvere dentifricia serviva adesso ad impedire che l'acido si spargesse mentre lavoravo guardavo da un'altra parte con l'area distratta e minuto dopo minuto l'acido incideva le sbarre sempre più a fondo avevo anche notato che i carcerieri provavano la porta scuotendone sempre la parte superiore e mai quelle inferiore perciò tagliai anche le sbarre in basso lasciandole attaccate solo per una sottile striscia di metallo ma quello fu più che altro un maligno gesto di sfida non sarei certo potuto uscire facilmente da quella parte Van Dusen rimase a lungo silenzioso mi sembra di avere chiarito tutto riprese poi gli eventuali punti che non vi ho spiegato sono serviti soltanto a confondere il direttore e le guardie ho messo nel letto tutta quella roba solo per fare un piacere ad Hatch che voleva arricchire un po' il suo articolo la parrucca naturalmente era necessaria per il mio piano la lettera l'ho scritta nella mia cella con la penna stilografica di Hatch poi gliel'ho rimandata fuori e lui l'ha spedita credo che sia tutto ma come ha fatto ad uscire dalla prigione e a rientrare poi dal cancello per venire nel mio ufficio chiese il direttore molto semplice come ho detto ho tagliato con l'acido i fili della lampada ad arco quando i tecnici della società elettrica hanno tolto corrente perciò quando questa è stata rimessa per accendere le lampade quella dalla mia parte è rimasta spenta sapevo che sarebbe stato necessario un po' di tempo per scoprire dove si trovava il guasto e porvi rimedio così quando il guardiano è venuto da lei a fare il suo rapporto il cortile era al buio sono scivolato fuori dalla finestra e devo ammettere che mi andava anche abbastanza stretta ho rimesso a posto le sbare alla meno peggio stando in piedi su una sporgenza del muro e sono rimasto in attesa nell'ombra finché non sono arrivati gli elettricisti uno dei quali era Hatch quando l'ho veduto l'ho chiamato e lui mi ha dato un berretto una tuta e un maglione che ho indossato ad una distanza di non più di tre metri da dove si trovava lei direttore proprio mentre era in cortile più tardi Hatch mi ha chiamato come se io fossi uno degli operai e insieme siamo usciti dal cancello esterno fingendo di andare a cercare qualcosa nel carro attrezzi fermoli davanti la guardia ci ha lasciato passare senza difficoltà ritenendo che fossimo due degli operai che erano entrati prima ci siamo cambiati d'abito e siamo ricomparsi chiedendo di lei quindi siamo arrivati nel suo ufficio e questo è tutto quello che seguì fu un lungo silenzio fu il dottor Ranson il primo a parlare meraviglioso esclamò davvero stupefacente come ho fatto il signor Hatch a entrare con gli elettricisti chiese Fielding un giornalista non è un bravo giornalista se non ha qualche amicizia rispose la macchina pensante e il direttore della società elettrica è un buon amico del signor Hatch e se fuori non ci fosse stato il signor Hatch ad aiutarla ogni prigioniero ha qualche persona fuori disposta ad aiutarlo ad evadere supponga Buddy si tratta soltanto di una supposizione che non ci fosse stato il vecchio sistema di tubazioni cosa avrebbe fatto domandò curioso il direttore c'erano almeno altri due sistemi per evadere replicò in modo enigmatico la macchina pensante dieci minuti dopo squillò il telefono dalla prigione di Kinsholm volevano parlare con il direttore la luce è tornata chiese questi bene i fili erano stati tagliati vicino alla cella numero 13 se lo sapevo già come? un elettricista di troppo cosa è questa faccenda? ne sono usciti solo due il direttore si girò verso gli altri con un'espressione interrogativa è la guardia del cancello esterno dice che ha fatto entrare quattro elettricisti ne ha lasciati uscire due ma ce ne sono rimasti ancora tre sono io l'elettricista in più spiegò la macchina pensante ah già fece il direttore capisco poi tornando a parlare nella cornetta disse lascia pure passare il quinto uomo è a posto gli audio racconti serie gialli e thriller d'america il problema della cella numero 13 di Jacques Futrell letto da Adami grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.